ciao a tutti, ci sono vari rumori in sottofondo stasera una è la mia gatta che gioca con un pezzo di grappolo d'uva e l'altra è la mia coinquilina che parla al telefono ma volevo comunque fare questo video per raccontare un po' una bella domenica da turista diciamo perché oggi è stata una bella giornata primaverile e sono stata un po' a passeggio per la città e ho fatto una scoperta molto piacevole nel senso che la domenica a Copenhagen è molto vivibile nel senso i negozi sono tutti aperti e in più ci sono i poli museali aperti gratuiti io ne ho visitati solo due uno è la Nikalsberg LiptoTech che è molto grande accanto a Tivoli che sta aperta dalle 11 alle 5 ed è molto bella, molto interessante e c'era una mostra sull'impressionismo francese in più diciamo e ospita opere d'arte da l'antica Roma, l'antica Grecia e poi c'è un salto con l'ottocento francese e danese e poi ho visto il museo nazionale danese con reperti storici dell'intera storia danese dalla preistoria a oggi e anche, diciamo, c'è anche un museo etnografico con oggetti d'uso comuni provenienti da diverse tribù del mondo e delle mostre particolari ad esempio ce n'era una sui tappeti sui tappeti Navajo e una su il cosplay giapponese e che dire estremamente interessante interessante ma anche un po' inquietante quel museo lì perché, non lo so, c'era un modo di disporre le cose c'era nel buio poi c'erano questi manichini poi ti mettevano dei suoni in sottofondo non lo so io soprattutto nelle sale superiori che erano le più buie le più polverose dove non c'era quasi nessuno non lo so ho sentito come una sensazione di inquietante però devo dire davvero ve lo suggerisco è stato un bel modo di passare la domenica magari nelle prossime settimane andrò a vedere anche le altre attrazioni danese di Copenhagen ad esempio il giro in battello oppure l'orto botanico il cambio della guardia vi faccio un po' sapere se si paga oppure no per esempio è stato tutto gratuito è molto interessante e niente vi lascio così giusto brevemente e domani devo andare appunto sia a fare diciamo il conto in banca che a iscrivermi in palestra e quindi avrò presto notizie fresche fresche intanto vi saluto e vi auguro buonanotte ciao ciao